Benvenuti a una nuova puntata di Sputarrospo TV. Questa settimana abbiamo fatto le interviste a Via L'Europa e abbiamo anche intervistato alcuni operatori dell'Uneur Tico d'Italia, il famoso Luna Park dell'Euro. Abbiamo intervistato la dottoressa Maria Cristina Lattanzi, Callisto Tania Livero e su Orgenevieve abbiamo intervistato Saverio Petrazzini. Poi per l'Eurospa abbiamo intervistato il dottor Pierluigi Borghini. Infine abbiamo anche raccolto delle interviste sulla gente, se vogliono la riapertura dell'Uneur, a chi manca, giovani e non, a Via L'Europa abbiamo fatto delle interviste. Poi una curiosità dalla Norvegia, lontani anni luce da quello che succede naturalmente in Italia, la spazzatura te la comprano, per cui andiamo a vedere un video. E poi in finale delle musiche e canzoni scelte per voi da Youtube. E un sondaggio sulle targhe alterne. Andate su Facebook, su Asputarospu.tv e potrete rispondere al sondaggio. Andiamo adesso con la nuova puntata. Ciao da Rosa Maria Bassi. Buon divertimento!